Salve, mi chiamo Truman Capotti Ero nell'appartamento di Mary l'altra settimana Dei quattro amatischi aveva le pareti, due erano sotto sopra Hai letto quell'articolo sulle uccisioni in Kansas? Beh, è quello di cui vorrei scrivere Stiamo cercando delle notizie riservate A me non interessa se catturato o no chi è stato A me interessa Fin da quando ero piccolo la gente pensava di avermi inquadrato Per via di come parlo Si sono sempre sbagliati Rimarrai stupefatto da Perry Smith Chi si occupava di te da ragazzino? L'orfanatrofe Ma come se io e Perry fossimo cresciuti nella stessa casa Lui se n'è andato dalla porta di dietro e io da quella davanti Colpevoli E qual è la pena? La morte Se penso a come verrà bene questo libro mi manca il respiro Sarà già morto a settembre Ti aiuterò a trovare un avvocato come si deve Grazie Il fratello e la sorella si sono suicidati Gliel'hai detto che tua madre fece la stessa cosa? Se quei due se la cavano vengo giù a Brooklyn a darti la caccia Dice che sarà il romanzo verità del decennio Non abbiamo ancora parlato di quella notte Non posso finire finché non so che succede Il mondo ti vedrà come un mostro E io non voglio che accada Ha deciso il titolo per il libro A sangue freddo Non è bello?